welcome amici ben ritrovati ciao a tutti ciao laura come influencia a tutti ora laura privi e privi a tutti gli amici che sono in ascolto che stanno vedendo che aspettavano quest'altra puntata e reazioni in questo nostro canale davide calte tv laura oggi andiamo in un gruppo nuovo in un gruppo che avete segnalato voi sul nostro telegram come al solito è un gruppo che mi stanizza infatti mi dovranno aiutare anche i nostri amici a scrivere sul sul a scriverci appunto sui commenti perché è un gruppo che si chiama kino è un gruppo figurati laura che è un gruppo rock capitanato da victor coi è un gruppo dei gruppi più influenti degli anni 80 quindi sono stato uno dei più forti gruppi degli anni 80 loro fanno un post punk new wave rock gotico rock alternativo un poco molto molto quello che piace a noi e con questa canzone che andiamo a a reagire che si chiama good night ma soprattutto una cosa che non capivo è che loro dicono che hanno cominciato a suonare nel 1981 e hanno smesso nel 1990 e noi abbiamo una live del 2021 stranamente non mi viene segnalata quindi come mai c'è come mai se il gruppo diciamo si è sciolto e ha finito abbiamo noi una live del 2021 questo è una cosa che sicuramente i nostri amici russi ci ci diranno ma abbiamo letto il testo della canzone già laura piangeva e io altrettanto anch'io e mi ero emozionato perché questa questa canzone spettacolare a livello di testo molto carica di emozioni molto carica di molti romanticismo e già insomma c'è stranito no perché come mai la stiamo scoprendo adesso dopo aver fatto anche tante tante canzoni russe laura e non lo so neanche io cosa andremo ad ascoltare perché ripeto è una canzone nuova però sono veramente emozionato emozione da la parte più bella è sicuramente questo quando noi siamo un pochettino più parenti siamo più vicini vicini e con tutti i nostri amici fans che che si scrivono e sicuramente questa è una canzone molto importantissima e hanno detto ok ora si deve in questo momento va bene e allora visto che il momento è arrivato e noi andiamo subito a reagire ad ascoltare questa canzone pronta laura pronta cari amici non è un pochettino non è un pochettino Grazie a tutti 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 che Laura questa canzone ti fa scoprire oppure va a metterti in risalto tutte quelle problematiche che magari c'hai dentro, ma in questo momento di sei minuti, sette minuti di questa canzone è quasi liberatoria, liberatoria il fatto di riuscire a questi sogni, a avvolgerti come in un mondo parallelo, a vivere quasi un sogno in quel momento, perché io l'ho vissuta così, mi sono distaccato, io non ero più qui con te Laura, in questo momento ero andato via e non so neanche dove ero, mi sentivo di essere in un altro ambiente, perché questa musica così, questa sua voce che tu sentivi così sempre bassa, insieme al testo era qualcosa di impressionante, questo gruppo è veramente fantastico e posso dirlo sicuramente che è uno dei gruppi più belli, uno insieme a tanti altri più belli che io ho ascoltato, perché questo tipo di genere di musica è molto, lo accolgo bene nella mia vita, nel senso mi piace ascoltarlo, non sapevo nulla di loro e grazie sempre a chi ce l'ha segnalato nel nostro Telegram e chissà quant'altra musica faranno, hanno fatto di questo genere, ma ripeto hanno tutto il mio supporto per fare tante altre canzoni. Laura? Davide sì, questo gruppo fantastico, questa voce cosmica, Davide ti fa sentire soltanto guardando il cosmos e sentirti lì e pensare tante cose, in più le immagini delle persone con queste pensiere, con questa tristezza, con questa catarsis Davide, catarsis, è una catarsis, catarsis, dopo lo cerco in italiano perché non mi ricordo com'è, però in spagnolo si chiama catarsis, è il sentire, il vedere, il guardare qualcuna cosa e anzi con la musica ti viene da piangere, butti fuori tutto quel negativismo, quella tristezza, quella nostalgia quello che stai vivendo in questo momento, quello che hai vissuto prima, qualsiasi cosa e quindi è importantissimo per noi, per questo lo diciamo sempre, è importante piangere è importante buttare fuori tutti i sentimenti, quello che sia bello, profondo, di tristezza di qualsiasi cosa, il gruppo, la canzone magnifica, sì che ti fa riflettere tante cose, magari c'era oggi il momento giusto per reazionarla a Davide, non doveva essere prima, è stato così bene, bene, non lo so che posso dire più perché alla fine abbiamo svuotato tutto quel pensiero, tutta la tristezza e su questo testo, di queste canzoni di sicuro appunto dopo essere ritornato nel presente e poi diventa tutto, ritorna tutto ritorna alla normalità, però nello stesso tempo ritorna anche la pace perché dopo il pianto, dopo le emozioni, dopo le emozioni arriva la tranquillità, che arriva la tranquillità giustamente da magari di aver, non dico risolto il problema, ma di sicuro averlo fatto presente, quindi vedevo anche nel video tanta gente piangere in questo video, quindi chissà se tante altre persone hanno sentito quello che ho sentito io, insomma la trasmissione di questi cantanti è proprio forte, forte per ogni tipo di persona, soprattutto le persone molto più sensibili perché colpisce molto di più, però chi non lo è nel senso magari gli farà piacere ascoltarla, sarà una bella melodia, ma chi è più sensibile come me, come Laura, nel senso di sicuro fa un po' più male, però è piacevole perché è un dolore che è realmente che si controlla, è un dolore che ti stimola, ripeto, ma si controlla e fa bene. Cari amici, volevo soltanto dirvi che il giorno 3 di giugno è il mio compleanno e avevo chiesto su Telegram e avevo fatto anche un post dicendo che mi sarebbe piaciuto avere un video di un vostro saluto, di un vostro augurio nel mio compleanno, ma mi è stato detto che in Russia non si può augurare prima, non si può fare perché è di cattivo auspicio, quindi porta portasfiga come si può dire, quindi io ho pensato che il 3 di giugno da mezzanotte del 3 di giugno magari potete cominciare a mandarmi dei video sul mio Telegram, quindi entrate sul nostro Telegram ufficiale, potete anche scrivere lì o mandarli o mandarli personalmente a Davide Kult e scrivermi e mandarmi questi video perché vorrei fare un montaggio completo con una musica russa e mandare questo video e farlo vedere a tutti quelli che ci seguono, tutti i nostri amici russi che sono stati lì, quindi io sto festeggiando questo compleanno quest'anno soltanto con voi amici russi, quindi non sto invitando gli altri amici di tutte le altre nazioni, proprio per la solidarietà che voglio con voi, per farvi far vedere quanto siete adorabili, quindi cari amici, che dire, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, commentate perché come sapete noi rispondiamo a tutti, attivate la campione delle notifiche, mettete tanti like, tanti 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 e se potete, se volete, potete supportare il canale in basso con donation alert, supportate il canale e ci aiutate ovviamente, che dire, grazie di questa canzone bellissima andremo a reazionare tante altre musiche russe, sapete che voi, noi non vi abbandoniamo mai, un abbraccio a tutti, ciao Laura, ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie.